Dietro all'immagine del libroso guarito ci sono tante categorie vedelotestamentarie perché è molto importante studiare un pochino quelli che erano tutti i rituali collegati alla scoperta della lebra, alla constatazione della lebra, alla condizione del lebroso, alla guarigione eventuale del lebroso che richiedeva, come appunto viene citato da Cristo stesso, la constatazione pubblica e ufficiale da parte dei sacerdoti. Allora, in questo testo che noi ascoltiamo così con semplicità ci sono dei piccoli trucchi, per esempio il fatto che il lebroso si mette in ginocchio e gli dice se vuoi puoi purificarmi. Noi dobbiamo considerare che poco prima nel Vangelo di Marco hanno parlato i demoni e hanno detto che tu sei venuto a rovinarci, questo dicono i demoni, e invece questo uomo in ginocchio dice se vuoi puoi guarirmi, puoi purificarmi. Questa guarigione, questa purificazione in realtà non è contraria a quanto hanno detto i demoni, il punto è quando l'uomo crede che l'arrivo di Cristo è rovina, è fine del suo proprio regno, quando inizia a credere che l'arrivo di Cristo nella sua vita, l'ingresso, l'avvicinarsi a Cristo è il momento della liberazione, è il momento della guarigione, della purificazione. Purificare, diciamo così, dobbiamo capirlo bene, perché nell'Antico Testamento e nel Nuo Testamento sono categorie rituali che implicano la separazione dalle cose che sono estranee a Dio. Noi siamo impuri quando siamo confusi, quando siamo sconnessi fra di noi e portatori di contraddizioni, e siamo puri in realtà quando siamo unificati e semplici. Puro in effetti è un concetto chimico, cioè puro e impuro, acqua pura è solamente acqua, acqua impura vuol dire che c'è dell'altro, oro puro, oro purificato. La purificazione della nostra vita, il poter togliere ciò che non serve, ma qui in realtà il tema ha un pochino un altro, anche se questo tema della purificazione è fortissimo, perché viene ripetuto continuamente questo termine in questo testo qui, ma questo uomo si mette in ginocchio, è un atteggiamento che prelude a tutta una serie di atti. Gesù ne ha compassione, tende la mano, lo tocca, dice una parola, c'è una constatazione che questa parola ha un'efficacia e c'è un rituale da compiere. Tutto questo parla dei primordi della liturgia cristiana che inizia a organizzarsi in riti, in atti che fanno ripresente, fanno attuale la potenza di Cristo. Ciò che noi meravigliosamente abbiamo da contemplare nella nostra vita ecclesiastica, noi sappiamo che poveri quanto siamo, contraddittori quanto siamo, però attraverso i sacramenti, attraverso gli atti sacramentali noi possiamo rincontrare la potenza stessa di Dio. Ma ancora non siamo arrivati al livello più interessante del testo. Questo lebroso, che cosa è? Che cosa è la lebra? La lebra era grave, orribile, terribile, tristissima malattia che isolava un uomo. Il lebroso doveva uscire dall'accampamento, dall'assemblea, dal consesso comune e doveva suonare una campana davanti a sé, non permettere che nessuno si avvicinasse per la paura del contagio. E solamente il sacerdote poteva determinare se questo poteva essere riammesso nell'accampamento, nell'assemblea, nella città o via dicendo. Allora la lebra diventa immagine della solitudine, di questa malattia inguardabile, che è molto più diffusa di quanto si possa pensare. Non è la solitudine di chi sta solo, concretamente, ma è la solitudine delle nostre parti inguardabili, impresentabili, che sono fuori dall'accampamento, di quella parte di ognuno di noi che non è visibile agli altri. Ecco che questo uomo si avvicina a Cristo dicendo tu puoi fare qualcosa per questa parte di me. Qui viene programmata la fede, perché noi la ascoltiamo. In ginocchio quest'uomo riconosce in Gesù la potenza stessa di Dio e crede che questa parte inguardabile, questa parte orribile, orrenda, che ognuno di noi porta in sé, la sua povertà, la parte delle nostre vergogne, ecco, può essere sanata da Cristo. Notare che c'era una regola fondamentale. Nessuno doveva toccare un lebroso. Il testo ci mette di fronte al fatto che Cristo prima tocca il lebroso, poi lo guarisce, lo tocca e dice lo voglio, sii sanato. E allora questo vuol dire che Cristo tocca l'uomo nella sua sporcizia. Veramente, la croce di Cristo questo ha fatto, ha toccato ogni uomo nella sua parte inguardabile. Il venire a contatto da parte di Cristo con la realtà più povera dell'uomo lo si vede, appunto, concretizzato nella croce, dove Cristo si fa portatore della violenza, della cattiveria, dell'inguardabile che c'è dentro ognuno di noi. Questo uomo viene toccato impuro a Cristo della purezza. E' sempre interessato molto poco. A lui è interessato chi è impuro, non l'impurità o la purezza. Cioè l'uomo, la persona. Noi da Cristo veniamo toccati quando siamo poveri, prima delle nostre opere. Veniamo amati prima di essere amabili. E lui ci rende amabili. Ecco, questo uomo non obbedisce al consiglio solenne che Cristo gli dà, dice guarda di non dire niente a nessuno, è un consiglio sapienziale più che un ordine. Ma questo uomo non ce la fa, non regge, è stato solo tutta la vita. Questo uomo vede la fine della sua solitudine, deve parlare, deve comunicare, deve toccare gli altri. In questo senso c'è il non aver capito che la cosa più importante non è stare a parlare con gli altri, ma l'aver incontrato Cristo.